Quali sono le novità, i prodotti, le collezioni che portate quest'anno a Mido 2016? Mido 2016 è sicuramente per noi importante perché ci dà l'opportunità di presentare a tutti i nostri clienti internazionali la nuova linea Sover che è il nostro marchio storico da oltre 50 anni distribuito su tutti i mercati internazionali e da quest'anno l'abbiamo rivisitato e riproposto in un'altra forma molto più attuale, più quindi in linea con le tendenze attuali del mercato e credo che questo ci potrà dare molte soddisfazioni nel prossimo futuro. So che avete anche altre collezioni per tutti i gusti Sì, la nostra realtà ha sviluppato un portafoglio adatto a tutte le diverse fasce di consumatori in particolare comunque il nostro leitmotiv è di trovare un giusto compromesso fra qualità e prezzo e quindi ci siamo concentrati proprio sulla qualità del prodotto cercando anche di ottimizzare quelli che possono essere i costi e quindi dare la possibilità anche al consumatore di avere un prodotto di qualità a un giusto prezzo. Per quanto riguarda invece l'azienda a livello organizzativo e magari il mercato, i paesi verso cui vi rivolgete invece? Allora i nostri paesi di riferimento sono soprattutto i paesi dell'est Europa dove si è sviluppata poi la nostra centrale noi facciamo parte di un gruppo internazionale, Einar Group che ha base in Ungheria e in vent'anni è riuscito a svilupparsi in maniera capillare in tutti i paesi dell'area limitrofa Adesso la strategia del gruppo è quella di espandersi anche nei mercati dell'Europa occidentale in particolare con la nostra partnership Einar Italia siamo partiti con la distribuzione nel nostro mercato di riferimento ma sono partite anche filiali commerciali in Inghilterra e in Spagna questo certamente ci darà una visibilità sui principali mercati internazionali e crediamo che questo tipo di organizzazione, modello organizzativo non basato su una centralità aziendale ma su una condivisione di skill e competenze possa essere un modello molto più flessibile adatto anche a fronteggiare quelle che possono essere anche le turbulenze di un mercato che è sempre molto in febbrillazione e che deve essere affrontato nella giusta maniera So che c'è stata una piccola novità tramite comunicato stampa proprio poco tempo fa Certo, novità di pochi giorni il fatto che abbiamo sottoscritto un contratto di licenza con un importante brand russo Valentin Yudanskin questo in quanto riteniamo la Russia uno dei mercati strategici dove siamo sempre stati presenti nel corso degli ultimi anni e questo poi ci potrà dare anche una spinta per poter espandere la nostra presenza nei più importanti mercati internazionali Mido 2016 nei momenti in cui vi presentate su questa vetrina quali sono le vostre aspettative o magari gli obiettivi che sperate di ottenere? Certamente la nostra è in Aritalia una realtà nuova che si è affacciata da poco più di un anno sul mercato quindi il primo obiettivo era quello di presentarci al trade internazionale soprattutto ai nostri potenziali clienti Italia per poter poi condividere magari un'esperienza speriamo positiva di collaborazione commerciale quindi abbiamo tutto l'entusiasmo di ripartire e di riproporre comunque un portafoglio prodotti piuttosto vasto che potrà permettere ai nostri clienti di lavorare in diverse fasce e segmenti di mercato molto bene, la ringrazio allora Grazie a tutti